Ciao a tutti ragazzi, qui è Jason Akino e siamo con un nuovo episodio di Prestigio più Prima Partita Dopo tantissimo tempo siamo tornati qui con questa serie che... Visto che sto giocando parecchio a LOL e sono arrivato al livello 24, ho trascurato un po' Call of Duty Ma visto che ultimamente ci sto rigiocando e ho anche fatto un piccolo acquisto, siamo tornati Quindi andiamo subito in modalità Prestigio, ormai non leggiamo più Questo emblema devo dire che è carino Andiamoci a sbloccare subito qualcosa Allora, a sto punto io sbloccherei una classe extra Ma sì Vabbè con la classe extra, tanto già non le uso tantissimo, però fanno sempre comodo Allora, la novità è che ho comprato le nuove mappe e le operazioni speciali Quindi a breve torneranno le operazioni speciali con Sir Dynamit perché anche lui l'ha acquistato E finiremo le operazioni speciali perché se non ricordo male ce ne sono due nuove In più, oggi vi propongo una partita su le mappe nuove diciamo Così per variare, visto che non sapevo più come variare C'è anche questa opzione Comunque penso che visto che ci vorrà un po' di tempo perché non è che ci siano tantissimi giocatori sulle mappe nuove Ci rivediamo direttamente quando ne trovo una Ciao ragazzi Ok ragazzi, la partita che sarà trovata è su piazza Io volevo appunto proporvi questa Perché appunto è una mappa italiana Piazza Addirittura c'è scritto pure in un punto macelleria Soltanto che ne ha piatta una, è già iniziata Quindi ci dovremo accontentare Allora, siamo su un dominio Quindi non è andato affatto male Diciamo non sarà proprio corta corta forse Allora Questa mappa è molto carina A me piace molto Però c'ha troppi Troppi piccoletti Te li trovi ovunque Ovviamente arrivano da ovunque i nemici E non sto scherzando Veramente Cioè tu vai da una parte E da altre otto direzioni potrebbero arrivare Granatina tattica Non c'è nessuno Conquistiamo Qui c'è qualcuno Uh Ecco come potete vedere mi stavano attaccando dall'alto adesso Andiamo da qua Vero mettendo il pp90 Perché c'è un bordello C'è... È un po' troppo dispersiva comunque questa Oh stiamo a perdere C Dov'è C? Andiamo su C E insomma non trovo nessuno Eccolo Ciao bello Vediamo se trovo qualcun altro Diciamo che sta andando anche discretamente questa partita Eccolo Lì ne ho visto uno Vediamo se ne arrivano altri da dietro Sembra di no Nooo L'ho andato a pieglie Bastardo di un compagno Allora No 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 Non so come mi sono salvato Alla prossima raffica però muoio Sono sicuro No Per fortuna no Questo è il nostro Su C ancora... Su B ancora non va nessuno Oh 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 Attenzione Sapevo che ci morivo Allora Allora Giriamo sempre per queste zone Dobbiamo andare sempre sulle parti di dietro Perché è da lì Che arrivano di più i nemici Cioè non faccio tempo a dirle E mi uccidono dall'altro lato Vabbè Avevo visto uno qui Ah ecco L'hai ucciso tu Bravo amico Si balconi adesso Gli scontri si spostano ovunque In questa mappa Eh ti ho visto Ti ho visto Ti ho visto Troppo tardi Ti ho visto Stava andando bene la partita No Dannazione Porco Ho fatto una cazzata Sta andando Uno schifo Vediamo se riesco a riferire Almeno un pochino Oh Ok Sono morti tutti i miei compagni No 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 Ogni volta non riesco mai A tiragliere di nuovo Presto ste granate Oh ma c'è ancora Già Ogni volta le flash Usiamo Allora Qui Sembra Non c'è nessuno Stiamo prendendo Alfa Alfa sotto controllo Ci stanno schiacciando Stiamo prendendo No 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 Dove ho dato a sto Era 5 Qua Oh Oh Porco E vabbè non muore Non vuole morire Non vuole morire Le inciopatate Solo a me non fa effetto Oh Ah Ah Quindi siete qui Abbiamo perso Allora Cerchiamo di raggirarli Anche se questa partita Presuppongo sia persa Però Cerchiamo di difendere Sì Di difendere Ovviamente Prendiamo Giubbotti No Proteggiate Alfa Ah Ah Bella roba Niente ragazzi Questa sicuramente È persa Però È stato bello Rifare questa serie Che sicuramente Andrà avanti Ragazzi Comunque Non andava nemmeno malissimo Poteva andare meglio Ovviamente Però Vabbè Non si può pretendere Sempre il massimo Ovviamente In genere Faccio io le killcam finali L'ho fatta anche io Questa Perché sono morto Comunque dai ragazzi Ad un prossimo video E niente Aspettando i cento Ciao Elass'e e Che se штam di